BELLA TUTTE SCIME EVOLUTE Durante l'ultimo episodio Ma meglio tardi che mai Quindi possiamo gustarci questo gioco Non più in inglese ma bensì in italiano Quindi un ringraziamento alla Crevio Lab E gustiamoci questo ultimo episodio Partiamo subito Qui, Clem, vuoi qualche batteria? Credo che dovremmo per i vostri bambini Ci sono sempre in un'altra parte Quando vanno là La Marche house? Sì, è tutto Non veni a la città Da la città, hai detto? Ci devi andare! Sì, ma perché? Clementine? Clementine! Clementine è morta. Onde è che è, devo trovare. Abbiamo una migliore chance di trovare se noi andiamo insieme. Chi è con me? Siamo cercando a Clementine insieme. Sì, sì. Se fosse io, chiedendo a te per aiuto, potresti essere qui per me? Ne ho bisogno di aiuto, per favore. Mi scusate, sei che sei proprio per questo. Spero, prima di tutto questo, voglio farvi vedere se posso fare qualcosa di certo. Clementine! Clementine! Grazie a tutti. 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 Oh, God... I know. No! No! You're alive. You're alive. I'll bring up the rear. I don't want to bleed. You're alive. 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 Non c'è un problema. Un'altra armata sta fuori. Jesus Christ, Lee! Oh no! Oh no! Tutti ok là? Penso che ho proprio peo. Quindi sì. ... ... ... ... ... ... Non è vero? Si sembrava, ma non può essere, non è? C'è vero, non possono tracere, ma solo rogono. Magari possiamo aspettare per un'opera. Non so, potremmo essere aspettare un po' molto tempo. Probabilmente dovremmo prendere il nostro tempo e andare. Il più che ci siamo qui, il più che clementino potrebbe essere arrivato da noi. Deve dovremmo provare a la manchina, allora? Cosa è quella? C'è tra noi e River Street, quindi potremmo stoppare se potremmo, potremmo tracere i nostri spettatori, magari. E poi potremmo andare a un hotel dove clementino i parents stavano. C'è vero, guardiamo i nostri spettatori e vediamo se potremmo trovare un modo per farlo per la città. Bene? Bene. Non credo che possiamo ignorare quello che ci ha fatto con Lee. L'ho perduto molto sangue là. Omid è certo. Allora, se si vedete se stia muozy o, se si non funziona, prendete l'ho più facile. Ok. Probabilmente dovremmo andare un po' più lentamente. E io conosco che non possiamo affrontare un po' di peso, quindi... Non mi tracassi come mi sono. Non ci siamo. Ora cosa? Ci siamo dovremmo andare da lì e trovare un po' un po' di niente. Proviamo a cercare i nostri spettatori. non andiamo back in there eh ci avevamo rimesso un braccio ragazzi vediamo un po' qui che cosa possiamo trovare è un'extensione e può essere l'utile nella scala ok vediamo parliamo con Ben vediamo qualcosa? c'è un escapamento qui e questo è proprio vediamo se torniamo a quella belltower potremmo avere un impatto sui tutti quei walkerci qui ci sono però poi andiamo via le strade? non lo so Cosa pensi? Penso che sto guardando il mio pezzo peccato. Solo un po' di morte. Proffa di mantenere la tua città. Ne devi andare fuori di questo pò. Hai venuto con me. Non pensi che io sarei? Come ti ho detto, Clementine è stato il mio più grande... ...emmo... ...fano un grande fan. E' un grande pezzo se non mi ha fatto. Tu ancora vuoi morire? Mi più fai di farlo a qualcuno di morto. Beh, sei qui. Non mi fai morto. Non ti fai. Ti fai di fai? Mi ancora fai di farlo. Più più che mai. Ci sembra di Croffitt Square. Sì, se la parte della popolazione morta di Giorgia non si trattava le strade. Prendiamo la scala, vediamo. Do you need a hand with that? I got it. Dammit! Oh shit The bells Yeah, could buy us some time Draw as many as we can this way Get down off the roof on the opposite side And bust our asses getting back to the mansion You shouldn't be the one to go My leg's feeling better Let me do it I'll do it If we have to decide who takes a risk like this It should be the guy who's got the least to lose What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then Maybe we should have someone more able-bodied doing that You sure you're up for it, Lee? Say that again and you're going to find out Fair enough Speriamo di non cadere di sotto Oh shit Bello Holy shit, man Are you okay? Yeah I'm fine I was wishing I had my other hand No shit Try to find another way out of there It's locked Shit The exit in here is locked They're coming this way Tons of them Jesus Now get back here I think I have to jump There's no way back Fuck, be careful You got this You got this You got this, motherfucker Nice Now let's get the hell out of there Get the hell out of here Get the hell out of here Skull in my backyard Cosa c'è? Sì, ci f***eranno! Cosa? Cosa? Vernon, non aveva Clem. Quindi dove è lei? Con qualcuno altra. Siamo dopo la sua. F***. Ma... Jesus! Poi, i pazienti di cancer hanno fatto questo? Sì, stavano aspettando. Tornati di vivere sotto la terra, credo. Poi uscire la mia e mi tirano qui. Poi, cosa succede a te? Sì. Sì? Sì. 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 Mi riuscì. Mi riuscì, che la colazione mi ha fatto. Sì, mi potrebbe essere f***e, ma sinceramente... Mi sento meglio. Ma che... Omid, puoi andare a la fonte e portareci a la parte del bambino? Non dovresti essere in giro. Si. Questo non sta succedendo. Tutto è così f***ato. Clementine è ancora qui. Quindi abbiamo come Clementine e poi cosa? Abbiamo fuori le città. Mi sono finito con le città. Siamo in la città e facciamo un pozzo. Si, sembra un buon idea per me. Nessuno ci ha chiesto. Tu proprio l'ha fatto. Non si f***o con me, Ben. Chiedi. Tutto tutti lo stanno insieme. Nessuno ha cambiato, ha? Nessuno ha cambiato? Mi chiedo immediatamente. Ci stiamo in corso. Non si f***a. Si, chiedi, Kenny. Possiamo fare questo in la città. Ben, inserisco a Gia. Che facciamo senza un pozzo? Passiamo in il città. Ci staccato con le città, l'estate e i suoi tempi molto lunghi. Passa qui. Non è sicuro come puoi, ok? Guarda, con te stavo. Mi credo che in il città è il più più sicuro. Ma tu non è morto ancora. Quindi mettere un pin in là, ok? No, non lo so. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, shit! Here they come! In the house! They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista! Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Ben. Go upstairs. And do what? Just go. Omid! What is it? Everyone! Help Omid now! Help Omid now! Lee! Help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Hurry! Take their goddamn arms off! Take your goddamn arms off! Now what? This is a big, sturdy house. It'll hold. Yeah, I think so, too. Shit! Get upstairs! Go! Guys, help me with this! Everyone get to the end of the hallway! What do we do now? This'll slow down! Get to the end of the hallway! Just take a fucking stand! We can't let ourselves get trapped. Let's get as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Three. Five. Four. Two. Y'all know where to aim. Can't wait. I'm out! Me too! Fuck! Where do we go? There's no goddamn opening! Up! Go! Here, um, I'm not good with these. You dropped it down there. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay. Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead! Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. So, no ideas then? There's gotta be another way. Check the floor for any other access, event, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Let's see. Let's see. We wait for the house to do another and we wait for the house to do another room. Sì. Sì. Dobbiamo iniziare a pensare di più di più di Clementine quando riguarda il nostro... ...ergenza. Cosa vuoi? Come siamo fuori qui? Questo è tutto il punto. Non lo sappiamo. Ok, ora la tua vita depends ono. Come siamo fuori qui? Non lo sappiamo. Non lo so. Lo so. Come ho detto, tutti hanno bisogno di andare a andare fuori. Noi siamo fuori qui. Cosa credi che funziona? Non lo so. Ho spero. Credo che ci bisogna avere una conversazione adulta. Cosa succede se Lee prende un altro spil. Noi, guarda. Possiamo essere guardati a una situazione di Larry. Chi è Larry? Non importa. Si sembra bene per me. Credo che sia meglio se ci siamo rispiti per arrivare a Clem. Noi non ci dovete fare bene se ci attacca. Non ci succede se ci attacca. Come sai questo? Poi, non so cosa succede prima che Omid e io ci sono arrivati. Ma possiamo crossare questa ponte quando arriviamo. Lee, non mi raccontare nulla qui. Ma come è questo non un problema? Ci siamo anche lavorati sui di Clementine che ci stiamo forgetchando cosa succede a te. Ma se fosse tu e fosse un ducco? Ci sono un po' di più. Noi, amico. Mi piacerebbe che tu sia più fokussato sui problemi e non avere le persone agireci sui te. Questo si sta accettando. Tu mi ascolti. La gente si tratta di tornare a Clementine, con o senza te. Perché non ho messo tutto per morire perché siamo stupi. Tu mi ucciscono, tu uccisierci, ok? Non ne freddo. Mi ucciso. Ah! You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. It's corroded to hell. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. Oh, me... This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah. We can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. I'm sorry. Me too. I get her. Go sit down. I'm glad you told us when you got bitten. It would've been easy not to. Yeah. Well... We probably would've let you go alone if you hadn't told us. Which would've been a mistake. If I were you, I would've been scared shitless. I was. The fucking thing, it happened so fast. You ever almost hit someone in a crosswalk? Almost? His license was suspended. Twice. Just... Wham! Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. Damn it. So weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone, too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? Just get Plemental. That's the focus. Despite how I feel, I can't let vengeance be the thing. Sure. But if it's not that easy... We'll do whatever it takes. And, you know, whatever happens to you... Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Kristen. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. I want you guys to take it. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Kristen, listen to him. It's what I want, okay? What about him? We, uh, gotta support him. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No. That was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. He better not do it again. He ruined Kenny's life. Outbursts like that aren't fucking appropriate. You do feel bad for him though, right? Well, seems like it got through to Kenny. Whatever that's good for. Alright. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon. You can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. Got, uh, feeling any better? I can handle it. Pain, that is. I'm just really goddamn tired. I mean, do you think it worked? Did it, did it help at all? I feel like a man who got bitten. So, take that for what it's worth. I still can't believe he went and got chomped. Just, fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I'm, uh... I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. It'll be alright, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Maybe take it easy on him from here on out. I'm angry as hell. Not at him. Maybe. Maybe not. You've heard him outside. I did. Never really thought about it that way. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Before y'all we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now. Anyway, we had to... make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. And I spent a lot of nights hating this guy's guts. I'm sorry for hurting you in the way, kitty. It's impossible to go through life without causing some sort of pain. But sometimes I can't help but wonder if I could have caused something last night. Only both, Doc. Well, cheers. I'm through. I'm through. No walkers. Things are looking up. You're up. I'm through. No walker. No walker. Grazie a tutti.